I fanatici dell'Isis devono sentirsi isolati non solo da parte di qualche paese o dall'Occidente, ma dal mondo intero, e questo non è ancora accaduto. Lo ha affermato il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, commentando la persecuzione dei cristiani da parte dei terroristi dell'Isis e la distruzione di numerose chiese nelle città conquistate. La via della diplomazia, ha aggiunto, deve essere perseguita molto di più, perché non è vero che la via diplomatica è inutile e non porta a conclusione. Se le cancellerie di tutto il mondo interrompessero i rapporti di interesse e di affari con determinate parti del mondo che riguardano questi fanatismi, veramente l'isolamento sarebbe completo. Il Cardinale ha poi ricordato che è un dato di fatto che i cristiani sono la parte religiosa maggiormente perseguitata a livello mondiale. Spero, ha aggiunto, che questo fatto susciti una consapevolezza non soltanto di una parte del mondo, ma del mondo intero, per poter isolare i fanatici con delle chiare, continue ed esplicite condanne. In merito alla distruzione delle chiese in numerose parti del mondo, a causa della follia iconoclasta e anticristiana, il Porporato ha precisato che l'importante non è distruggere i cuori delle persone e la bellezza dell'anima. Sono certo, ha affermato, che i cristiani dei paesi martoriati non si faranno distruggere dalla barbarie di chi li perseguita e di chi li uccide. Certo, il mondo nel suo insieme ha il dovere assoluto di assicurare giustizia e sicurezza a tutti. Ma, ha concluso il Cardinale Bagnasco, nel cuore dei cristiani c'è anche la possibilità del perdono, come alcuni martiri ci hanno dato testimonianza, quando la carne è ferita e straziata è la propria.